Restano sconosciuti gli autori e il movente dell'attentato compiuto sabato sera a New York. 29 le persone rimaste ferite e tutte già dimesse nell'esplosione dell'ordigno piazzato in un cassonetto dell'immondizia a Chelsea, quartiere di Manhattan. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, non esclude possa essersi trattato di un atto terroristico, poi però specifica. Al momento non ci sono evidenze di un collegamento con il terrorismo internazionale, ma è davvero troppo presto per trovare conferma dalle indagini. Chi ha piazzato quelle bombe verrà trovato e assicurato alla giustizia. L'FBI esaminerà i resti della bomba, così come l'altro ordigno è un esploso trovato a quattro isolati di distanza. Gli investigatori stanno vagliando tutti i video in loro possesso e chiedono a chiunque abbia informazioni di fornire la propria testimonianza. New York resta presidiata da migliaia di agenti, la sicurezza nelle metropolitane e negli aeroporti è stata rafforzata.